Ben il 22% degli incidenti sono causati da colpi di sonno. Il problema non è di poco conto e la prevenzione è il migliore strumento per evitare problemi sulle strade al sorgere della notte. Tenete dunque a mente alcuni consigli e avvertimenti che vi saranno di sicuro utili nelle vostre prossime guide notturne. In primo luogo, sembra quasi scontato dirlo, è fondamentale mettersi al volante solo se sei in condizioni psicofisiche edone. Se dovete necessariamente guidare di notte, dunque è meglio prima aver dormito anche solo per qualche ora, in modo da essere più freschi ed evitare un colpo di sonno. Innanzitutto consumate una cena leggera, a base di alimenti facilmente digeribili e che contengano molta acqua, come frutta e verdura. Se mangerete in modo troppo pesante, ad esempio cibi fritti oppure molto calorici, andrete incontro a sonnolenza, fattore di rischio enorme durante la guida notturna. Assolutamente da evitare sono anche gli alcolici, compreso il vino, che con i loro effetti alterano la percezione sensoriale ed inducono il sonno. In caso di viaggio notturno in compagnia, un ottimo consiglio è alternarsi alla guida. Con il sistema di turni vi garantirete un minimo riposo che tornerà molto utile nelle ore successive. In caso di stanchezze, evitate, nel modo più assoluto, di fare supereroi e fermatevi nelle aree di sosta, se necessario anche più volte. Bere un caffè può aiutare sicuramente, ma non elimina il pericolo di addormentarsi durante la guida. Se ne avete la possibilità sciacquatevi la faccia con dell'acqua fresca e dopo fate una passeggiata di qualche minuto. Il vostro meccanismo biologico sarà riattivato e così tornerà anche la vostra concentrazione.